E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovo episodio di Tomb Raider 4 Oggi finalmente abbiamo raggiunto il ventitresimo livello, ovvero ingresso alla cittadella C'è un totale di un solo segreto in questo livello E prima di proseguire volevo un attimo aggiornarvi sulla trama Perché forse avrei dovuto farlo all'inizio, ovvero alla città dei morti Però i due episodi precedenti sono un po' più tranquilli e scherzosi Ho preferito registrarli in quel modo insieme ai ragazzi perché ogni tanto ci vuole Quindi piccolo aggiornamento trama Cioè avevamo lasciato il palazzo di Glopatra con tutti i pezzi dell'armatura di Horus Quindi Lara ovviamente è tornata da Janives ad Alessandria per informarlo e per capire appunto quale fosse il prossimo obiettivo Il problema è stato che quando lei è arrivata ad Alessandria Non ha trovato Janives ma ha trovato appunto un fogliettino sulla scrivania del suo amico In cui appunto Werner diceva di averlo preso in ostaggio e portato appunto alla cittadella Quindi adesso il nostro obiettivo fondamentalmente è quello di raggiungere la cittadella Questo livello si chiama l'ingresso perché appunto non siamo ancora arrivati alla cittadella Ma ci entreremo da qua Il problema adesso ovvero un po' di questi livelli L'obiettivo di questi livelli prima di raggiungere la cittadella è quello che come il cielo insomma dimostra Set ha cominciato tutto il suo processo di apocalisse Quindi ha risvegliato svariate creature che incontreremo appunto durante l'avventura E tra cui adesso una la incontreremo subito a brevissimo perché infatti se continuo in avanti partirà il filmato Con il sergente Aziz E quindi niente sostanzialmente ci dobbiamo sbrigare per raggiungere la cittadella E salvare Janivs il quale poi ci dirà come procedere per fermare tutto questo casino Comunque adesso c'è subito un filmato Io vi aggiorno poi dopo il filmato su cose si sono detti perché ovviamente ragazzini inglesi mi dispiace Cosa in God's name has happened here? Where are the rest of my men? I banged into a couple of them They appear to have sealed off all the exits Yes, yes, this, this is good You must help us to, to, to To liberate the city I'm just here for directions I need a route to the citadel This is not so good This is where the main activity takes place Activity? We encountered it as the skies began to darken A creature for our ancient past It tore through my men like a firestorm I managed to station our ammunition Tracking for the beast With a mind to ignite in the explosive device in area But with renewed vigor It forced us back It was as if it knew of our plans Beast or no beast, Sarge I've got to get into that building You have spirit Perhaps As we retreated We, we have mined some of the streets To, to prevent contamination Two of my men are still in the area Out by the northern cemetery One of them holds the frequency for the mine detector The other holds the second half of the code For the explosive device And if I find them? Tell them Sergeant Aziza sent you I heard your motorbike Once you have the codes Take me on it To the ammunition truck I shall eradicate the blockage But hurry I have not long of this world Ok Perfetto Allora Sostanzialmente cosa le ha detto Il sergente appunto è ferito Quasi in punto di morte ormai Chiede a Lara di aiutarlo E aiutare anche tutti i suoi uomini A fermare questa sorta di apocalisse Lara gli dice Guarda a me sostanzialmente Dell'apocalisse mi interessa poco E non mi interessa appunto Fermare tutte queste creature Ucciderle e quant'altro Mi interessa raggiungere la cittadella Il sergente dice Vabbè se proprio devi Sappi che comunque la cittadella Però è il centro dell'attività Di tutto questo casino Lara ha detto Non me ne frega niente Io ci devo andare comunque Il sergente Poi non mi ricordo Non ho ben capito Perché non ho manco prestato Tutta sta attenzione Durante il dialogo Scusate Comunque La informa Che ci sono Che dobbiamo recuperare Due codici Perché poi Dopo lo dovremmo portare Al camion Dove È pieno di esplosivi E lui farà Appunto un po' Da kamikaze Però appunto Dobbiamo prima trovare Questi due uomini Con i due codici Che Hanno Hanno loro Hanno con sé Quindi Andiamo Salvate Perché qua Raga Io salverò Ogni due per tre Ve lo dico Ragazzi Rieccomi Scusate Ho dovuto Un attimo Interrompere Perché Cioè In realtà Si è interrotta La registrazione In automatico Per fortuna Avevamo salvato Quindi non mi devo Rivedere il filmato Per problemi tecnici Credo Comunque Risolti Scusate anche Per la mia voce Che in realtà Sono Influenzato E non sono Informissima Però insomma Questi sono tutti Dei dettagli Che Ai fini Del gameplay Non dovrebbero interessare Però noi li puttiamo dentro Comunque Perché ci piace Farlo Comunque finalmente Facciamo conoscenza Di questo drago Barra Dinosauro Io non ho ben capito Cos'è So solo che è Snervante Con quei versi Del cavolo È uno stridio Più che un verso Cioè Vabbè Allora Sbrighiamoci Corri Lara Corri Corri Comunque Quel Quel camion Che abbiamo lasciato Dietro di noi Ormai Tenetelo ben a mente Perché appunto Sarà la fine Del Del livello Venite qua voi Cioè no Scusate Non la fine del livello Sto dicendo una cavolata Sarà la fine Di tutta la serie Dei livelli Interconnessi Sempre Prendi sto Bengala Allora Entriamo qua dentro Solo per prendere Per recuperare Due oggetti Che in realtà Sono Molto Buoni Essenziali Quasi Perché le munizioni Della revolver Ci servono Come non mai Come quelli Della palestra Ovviamente Ok Una volta recuperate Possiamo uscire E ci dirigiamo Poi Verso Sinistra Non è molto Difficile Questo livello In realtà Abbastanza tranquillo Possiamo saltare Questo filmato ambientale Perché tanto Non ci interessa E ci ritroveremo Davanti A tre leve Ogni leva Ha un proprio numero Come potrete Ben vedere Quindi uno Due Tre Ma tranquilli Perché vanno tirate In ordine Numerico Quindi dalla prima Alla terza Si aprirà Un altro passaggio Dove ci sarà Un'altra leva Che la andiamo A tirare Con il piede Di porco Con l'aiuto Del piede Di porco Ok Lara Dovevi saltare All'indietro Però non dovevi Fare il salto Così a caso E adesso Saliamo Su una Piattaforma Eccola qua Allora Un consiglio Che vi do Per posizionarvi Bene Fate dei passetti Laterali Perché se camminate In avanti Lei Cadrà Dalla piattaforma Non è che Rimarrà Bloccata Mentre con il laterale Appunto Si bloccherà In automatico Una volta Raggiunto il ciglio Comunque abbiamo tirato La quarta leva Si è aperto Un altro passaggio Ancora Scendiamo Subito Andiamo qua Ok E tiriamo Un'altra leva Che novità Vero Mi raccomando Una volta tirata Saltate il filmato Che partirà Che vabbè Io l'ho saltato Talmente in fretta Che manco Si è visto Che c'era La rabbassati Per favore Ok E rimaniamo accucciati Perché queste farfalline Che non sono farfalline Perché hanno un loro termine Scientifico Che io attualmente Non ricordo Ma le chiameremo Appunto farfalline Se ci accucciamo Ci infliggeranno Meno danno Rispetto Allo stare in piedi Quindi Accucciamoci sempre Qua mi raccomando Appena mettiamo piede Sulla piattaforma Qua Usciranno Questi pipistrelli Cerchiamo di ucciderli Perché Altrimenti ci daranno Un po' fastidio Quindi occhio Saliamo qua E Non schippate Per nessuna ragione Lara non cadere Non schippate Per nessuna ragione Al mondo Il filmato ambientale Che troviamo qui Perché per l'appunto Usciranno Queste maledette farfalline Insieme ai pipistrelli Dove sono andati I pipistrelli Sì Stanno a fare I viaggetti Solo uno ce n'era Ok Morti Salviamo Perché adesso Se volete Dobbiamo andare a prendere Il segreto Quindi È un salto Abbastanza difficile Quindi io vi consiglio Di salvare Perché Vabbè Se non volete Prendere il segreto Saltate in avanti E quello è un salto facile Da fare Quindi non c'è problema Lara stai ferma Però Per prendere il segreto Dobbiamo girarci Con la corda E saltare Verso quella campana Lì Allora Forse un po' più così Proviamo Vai Lara Ok Al primo tentativo Perfetto Io comunque voglio L'azione Che hanno inserito In Tomb Raider Chronicles Quella che si può Buttare con la capriola In avanti Quando si è accucciati Perché così Perdi veramente Un sacco di tempo È noioso Girarsi ogni volta E moce di girio Ok Allora adesso però Dobbiamo tornare su Perché come vi ho detto prima Noi dovevamo andare avanti Per proseguire nel livello Dovevamo fare il salto in avanti E non qui Qua ovviamente Ogni volta che passiamo Per questo corridoio Si triggerano Queste maledette Farfalline Però come al solito Tranquilli Accucciamoci E prendiamo Meno danni Possibile Possibili Ok Dai Lara Fermati Accucciati Cioè Ragomitola Ragomitolati Una parola un po' più difficile Io Ok Io salvo E Prendere il fucile O la balestra Insomma Quello che preferite Perché A breve Usciranno Quegli scarabèi Non scarafaggi Più che scarabèi Giganti Che schifo E non mi ricordo Dove escono Qua forse Si Già lo sento Oh Ci tolgono un casino Comunque No Lara non cadere Mamma mia Quanto me la sono rischiata Fanno malissimo Sti maledetti Cioè Finire questo livello Senza usare Medikit È veramente Un'impresa Io ci proverò Ma non so se Se riesco Madonna Stavo per scivolare Proprio Al limite Mi sono fermato Qua dobbiamo saltare In avanti Si Fucile Perché arriva L'arco Di sti cosi Quanta Quanta vita Cioè Con un colpo Ci tolgono Veramente Metà vita No Però comunque Un sacco Allora Saliamo qua sopra Così Recopriamo Il medikit Che mi piacciono Così tanto Ok Scendiamo E dobbiamo Saltare Lì Ok Fate tutto Con molta calma Perché Basta veramente Un salto Fatto male E si muore Tipo questo Ok Credo Avessi saltato Con troppo anticipo Allora Pistoline Perché Ci saranno I pipistrelli Qua Fermatevi al ciglio Uccidete i pipistrelli Prima Lara li ha uccisi Tutti e due Sei sicura Poi se ne vedo uno Dopo Mincavolo Ok Prendiamo il revolver Salviamo Per sicurezza Ok E facciamo Questo salto Qui Lara però Ok Questo Bene Posso dire che Mi posso ritenere Soddisfatto Di questa cosa Che ho appena fatto Ok Abbiamo Più o meno Metà vita Quasi salva Perché adesso Dobbiamo tornare A livello precedente Alla moschea Di Tulum E quindi Dobbiamo ripassare Per il drago Sputacchia fuoco E se ci colpisce Ovviamente 90% Ci manda fuoco Quindi mi raccomando Salvate Io spero Di riuscirci Perché Insieme al fuoco Ci saranno anche Quelle maledette Mosche Cioè non mosche Farfalle Cioè non so Lara salta Ok Perfetto Qui parte un altro filmato E poi ci salutiamo Stai calmo Prima di tutto Sergente Comunque ci ha detto di Che ci sono Delle modifiche Da portare Alla moto Quindi dovremo mettere Il turbo E di trovare Tutte queste cose Per poi Metterglielo Per l'appunto Comunque Lara ci fa un inchino E con questo inchino Io vi ringrazio Per aver visto Questo episodio Sperando che vi sia piaciuto Nel caso vi fosse piaciuto Appunto Lasciate like Iscrivetevi al canale Sia youtube Che telegram E ci vediamo direttamente Con il prossimo livello Che poi tra l'altro Saranno interconnessi Quindi torneremo Alla moschea Di Toulon Al prossimo episodio Ciao a tutti 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 Ciao a tutti